E adesso per TechPacco è il nostro reparto tutto tecnologia e soluzioni. Beh ragazzi, tutti ormai dipendiamo da diversi dispositivi elettronici anche durante le nostre uscite outdoor, anche quando diciamo di non volerne sapere niente. Alla fine la tecnologia ci aiuta e abbiamo bisogno di energia per mantenerla attiva. Tutti ormai siamo abituati a portare con noi dei power bank. Anche per ricaricare una semplice torcia frontale durante un'uscita di più giorni abbiamo bisogno del nostro power bank per sistemarla. Ma immaginiamo anche GPS, orologi e gli immancabili smartphone. Insomma c'è sempre qualcosa da ricaricare, abbiamo bisogno di energia a portata di mano. Quando però le temperature sono davvero molto basse, le batterie a litio che troviamo all'interno dei nostri power bank, che troviamo all'interno anche dei power bank in carbonio di Nightcore, beh ragazzi in quei momenti le batterie perdono efficienza fino a diventare inutilizzabili. Ora non fatemi fare una lezione di elettrochimica che non sono neanche in grado, ma questo è dovuto al fatto che come molte reazioni chimiche, anche quelle all'interno delle batterie a litio rallentano con il freddo. Ragione per cui avrete già sicuramente sentito il consiglio di tenere sempre a portata, a contatto con il corpo, gli accessori vitali, ad esempio il cellulare, se davvero ci può servire per chiedere soccorso, un attrezzino GPS o dei power bank, è sempre bene tenerli addosso, vicino al corpo. Ora oltre alla comodità della tecnologia ci sono delle situazioni dove avere delle batterie cariche è davvero vitale per la nostra sicurezza e può arrivare a salvarci la vita. Per fortuna ci pensa Nightcore e ci pensa con i suoi nuovi power bank della serie Summit. Vi basti sapere da subito che a meno 20 gradi centigradi, quando i power bank comuni muoiono, il Summit di Nightcore vi offre ancora una capacità del 70%. Il trucco, se così lo vogliamo chiamare, è avere a bordo un elemento riscaldante che consuma pochissimo, ma è in grado di riattivare la batteria quando ci serve. E sì, perché il freddo congela, diciamo, la carica all'interno della batteria e non è sbagliato dire che in qualche modo il freddo estremo congela le cariche, cioè non permette agli elettroni di passare velocemente da una parte all'altra. Ora, se noi riusciamo a riportare a temperatura una batteria, beh, vedremo che piano piano riacquista energia. E non è che la stiamo ricaricando con il nostro affetto, con la vicinanza al nostro cuore. È proprio che una volta che la temperatura è di nuovo un po' più alta, le cariche riescono a muoversi e la chimica che abbiamo inserito all'interno di una batteria a litio torna ad esserci utile. Come funziona questo elemento riscaldante all'interno della serie Summit di Nightcore? Che lo vedete disponibile in due tagli, ma ne parliamo tra poco. Beh, a zero gradi entra in funzione e notate accendersi un LED rosso come indicatore. Quindi usa un po' della sua carica residua per evitare di congelare. Ed è una soluzione parecchio intelligente. Ancora più utile il fatto che mentre lo teniamo in carica in un ambiente gelido, una bella tenda durante una spedizione artica, o durante, perché no, una notte molto fredda, lo teniamo in carica perché magari abbiamo un altro power bank, magari lo stiamo caricando in macchina. fate voi, ha una fase di preriscaldamento della batteria. E quindi porta prima la batteria ad una temperatura utile e solo dopo inizia la carica per sviluppare la migliore capacità e la maggiore efficienza. La costruzione di questi power bank è ormai leggendaria, ragazzi. Io lo uso questo da una vita, ne ho più, non so più quanti ne ho. È un unico corpo in fibra di carbonio, diciamo a bicchiere, dove inseriamo tutte le batterie e l'elettronica, ed è resistente agli impatti fino a un metro e mezzo. Resistente anche agli schizzi d'acqua, ingress protection o IPX5. Vi ricordo che un prodotto con rating IPX5 significa che è protetto contro i getti d'acqua da tutte le direzioni. Quello che può succedere un po' con la neve, un po' con gli ambienti freddi e le nostre avventure, è in giro per il mondo. Le dimensioni sono davvero molto contenute, la densità, si misura così la qualità di un power bank, la densità energetica è massima. Parliamo di 254 mWh per ogni grammo. Gli accessori inclusi sono particolari, perché abbiamo un sacchetto isolante in neoprene che ne migliora l'efficienza. E sì, perché lo vedete all'interno, forse lo vedete, forse no, non è facile, all'interno è tutto argentato. Il mio power bank lo terrò quindi nel suo sacchetto termico, ben chiuso, e se lui, nonostante il sacchetto, rileva una temperatura troppo bassa, inizia a riscaldarsi piano piano, ma proprio grazie al sacchetto, l'energia necessaria di cui avrà bisogno per questa operazione sarà davvero poca. E si manterrà da solo al calduccio senza doverlo tenere io addosso. Altro accessorio in dotazione, un cavetto USB-C e USB-C da tutte e due i lati, di grande qualità. Questo ci fa comodo per ricaricare diversi dispositivi e anche il cellulare. Il Summit di Nightcore ha quella che io chiamo energia intelligente, gestione intelligente dell'energia, cioè individua il dispositivo che ha collegato e lo ricarica alla massima potenza per quel dispositivo. Si parlano, si mettono d'accordo e si gestiscono il trasferimento di energia. Allo stesso tempo, però, se avete bisogno, potete selezionare la modalità Low Current, cioè bassa corrente, carica più lentamente i dispositivi per quando è necessaria. Si seleziona manualmente, schiacciate, tenete premuto e vi si accende un LED bianco. L'indicatore di carica è su quattro livelli e riguardo la gestione intelligente della temperatura è valida anche mentre ricaricate lui. Quindi se sto utilizzando un buon alimentatore da cellulare, da tablet, bello grosso e prestante a muro, lui lo capisce e si ricarica molto velocemente. Se invece sto utilizzando uno di quei vecchi alimentatori o quello che capita o quello che ho, lui lo sa e allo stesso tempo si ricarica più lentamente. Insomma, non dobbiamo preoccuparci noi di questi dettagli, fa tutto da solo. L'indicatore di carica è a quattro pallini, quattro livelli, che stanno ad indicare il 25, il 50, il 75 e il 100% della carica disponibile. È uno strumento sicuro, è una batteria, è grande, è potente, ma deve essere sicuro. E lo è. A bordo ha una protezione dalla sovracorrente e dalla sovratensione. È protetto dai cortocircuiti e dall'eccesso di scarica, così come dall'eccesso di carica. Ragazzi, siccome siamo tutti abituati a collegare, scollegare robe, come ci capita, senza badare finché le prese entrano, beh, è buono che lui sappia con chi ha a che fare e si protegga da solo. Ha a bordo anche la protezione termica, quindi non fa in surriscaldamento, eccetera. Per i viaggi in aereo, nessun problema, è approvato per entrare in cabina insieme a voi. A chi è destinato il summit di Nightcore, potreste chiedermi? Beh, ragazzi, sicuramente alpinisti, frequentatori della montagna, ma anche ai prepper. Eh sì, perché se mi faccio un kit serio da prepper durante l'inverno, devo sapere che la mia energia, che l'energia per i cellulari, per le radio, per le torce, per i dispositivi, beh, deve sempre essere a disposizione. Tra l'altro torna molto utile anche ai fotografi timelapse, quelli che lasciano le fotocamere lì accese a fare tante fotografie dell'ambiente, magari tutta la notte, e hanno bisogno di un po' di carica in più. È disponibile in due tagli, uno da 20.000 mAh e uno da 10.000. Chiaramente cambiano anche le dimensioni, le leggete a schermo, le trovate su backpacko.it, ma, beh, dipende un attimo da quello che vi serve e da quanto dura la vostra avventura, sicuramente. Se vi serve invece un powerbank più semplice o altri tipi di powerbank, sempre da Nightcore, sempre i migliori al mondo, li trovate su backpacko.it. Date un'occhiata a tutto il reparto perché ce ne abbiamo diversi.